Un esterno offensivo e una punta centrale, questi gli obiettivi sui quali si è concentrato il Pescara, con Diego Falcinelli che a sorpresa è diventato l'uomo giusto sul quale punta il Pescara come riferimento offensivo per prendere il ruolo di Federico Melchiorri. L'ex attaccante della Virtus l'anno scorso a Perugia con profitto di proprietà del Sassuolo è stato richiesto dal Delfino e in occasione dell'amichevole del 2 agosto proprio tra Sassuolo e Pescara si proverà a chiudere l'operazione. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2016 e sta discutendo del rinnovo con la società emiliana che potrebbe poi girarlo in prestito il rival Adriatico. La caccia alla punta nei rumors di rito ha visto spuntare anche il nome di Emanuele Calaiò che il Catania potrebbe liberarlo gratis ma si tratta di una seconda scelta e soprattutto di un cavallo di ritorno. Nicola Pozzi svincolato dopo il fallimento del Parma potrebbe rappresentare l'altra soluzione a sorpresa. Intanto è iniziata la seconda parte della preparazione da Pizzoferrato a Cingoli nelle Marche. Il Pescara insomma prende forma tra volti conosciuti ma soprattutto volti nuovi. Tra questi Gianluca Lapadula dal Teramo al Delfino. Il Pescara mi ha cercato anche durante l'anno a Teramo però io avevo in mente solo di fare bene per il diavolo, volevo portare il Teramo, volevo dare il mio contributo a questa promozione, ci siamo riusciti. Dopo che è finita la stagione ho iniziato a sentire un po' le voci di mercato, sapevo che il Pescara avrebbe fatto carte false, il mister mi ha chiamato, il prese mi ha cercato anche lui fortemente. Mi è piaciuto subito il progetto ed eccomi qua, è una società comunque importante non solo di B perché ha fatto anche la A e dovrò mettermi in discussione un altro anno.